Allora, questo video lo faccio alla veloce per vari motivi, ovvero il primo che non vedevo l'ora che arrivasse a questo pacco il secondo è perché mi serve subito il contenuto di questo pacco purtroppo per un motivo, scusate per una notifica, un motivo non tanto bello perché non so perché non ha registrato per circa 10 minuti su Animal Crossing, episodio 16 o 15 quindi mi serve per registrare, visto che è arrivato, dico boh, registro così quello che devo dire lo dico e non lo scrivo poi in post produzione e quindi lo dico con questo coso qua quindi avrete capito che è il microfono come avevo già anticipato sul canale di Telegram l'altro motivo è che il Corriere l'ha sbattuto per terra e quindi voglio vedere se effettivamente è sano io per questo tempo ho avuto qua il mio indirizzo che quindi andrò a censurare e niente, quindi andiamo ad unboxare il pacco per vedere se è effettivamente intatto e poi la prova, boh, vedrò se farlo in qualche modo anche perché non ho nessun programma di registrazione audio non lo so, vedremo, vedremo allora dicevo che il video non so nemmeno cioè, sarà comunque in generale corto quindi non so nemmeno se farlo uscire single se farlo uscire insieme a qualcosa altro, non lo so comunque è un mouse, cioè è un mouse, cioè è un microfono che io ho cercato per tanto tempo, nel senso che mi serviva un microfono però visto che comunque appunto devo fare un po' di commenta, devo dire delle cose quando succedono in generale non volevo spendere tanto e non volendo spendere tanto volevo andare su qualcosa di economico il problema è che in questo periodo, con la quarantena e tutto Amazon è messo peggio che che quando c'era effettivamente adesso siamo in fase 2 Amazon è messo peggio adesso in fase 2 piuttosto che la fase 1 perché tutto quanto non è disponibile ha prezzi folli e arriva a giugno siamo oggi 14 di maggio quindi quindi io l'ho trovato da ebay dopo una ventina di ore di ricerca non sto scherzando anche di più e ho fatto un giro assurdo perché ovviamente su Amazon c'erano altri vali di microfoni che costavano di più di questo però io per iniziare ho voluto proprio qualcosa di economico ovviamente se fa schifo lo ridò indietro vaffanculo però ho puntato al fatto che fosse USB perché io voglio che rimanga sempre attivo quindi ho voluto anche che avesse un tasto quindi mi serviva USB per non impellacarmi con le cuffie il tasto per attivarlo e disattivarlo e niente un microfono buono però che costasse poco quindi veramente low budget a qualità prezzo abbastanza recente ovviamente non si può prendere chissà cosa e comunque è successo un casino assurdo tra virgolette nel senso che questo microfono qui se voi andate a cercarvelo è di un'altra marca però è letteralmente identico la marca è Eivotor e praticamente vi spiego perché allora questo microfono e la copia non così spudolata perché un po' l'hanno cambiato vi dico così perché una volta io le casse quelle che ho lì quelle due casse quelle sono originali trust trust e io una volta ne ho comprate un paio non originali che erano identiche ma rosse e suonavano uguale bene o male diciamo che distorgevano un po' di più verso i volumi alti però erano identiche e costavano praticamente uguale e la trust so che la trust è una marca economica ma comunque decente buona come marca che anche lei copia parecchio però io so che comunque soprattutto vengono copiati un casino e questo mouse c'è questo mouse questo microfono qui è la copia di altri microfoni trust che sono una copia di altri microfoni però questo mouse qui in realtà c'è ancora questo mouse questo microfono qui è uscito dopo l'altro microfono della Eivotor che è una marca di questa cos'è Andovlo io non lo so Andowl io non sapevo la marca finché non l'ho aperto perché appunto sono la stessa cosa però riproposta sotto marche diverse però ricordiamoci ragazzi che la trust è sempre la migliore ok scusatemi scusatemi per questo piccolo spot pubblicitario la trust spero che mi sponsorizzi lo sapete che la trust se hai tipo 50.000 iscritti su twitch che quindi sono tipo già solo quelli 400.000 euro al mese intanto c'è una cifra a caso però ti se sei part rare trust ti da una jeep marchiata trust io voglio essere trust comunque questo video sta venendo abbastanza lungo comunque io ho togliato un bel po' di parti io ovviamente vedo il minutaggio ma vedo il minutaggio integrale non quello con i tagli e ho perso il taglierino quindi non so come tagliare eccolo qua tipo adesso siamo a 8 minuti però molto probabilmente per voi siamo a 4 o 3 minuti comunque speriamo che comunque la qualità sia abbastanza alta e proseguiamo con l'unboxing allora qua c'è scritta roba vabbè gaming bla 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 non lo volevo neanche con le luci o con forme strane volevo un microfono normalissimo poi c'era la scelta se questi qua quelli normali quelli con tre piedi quelli col braccio adesso sto anche pensando di farmi regalare una schivana per il compleanno che è tra due mesi perché voglio cambiare le mie schivani assolutamente perché non ci sto e ne voglio una abbastanza seria quindi ho detto ne approfitto visto che non c'ho più un cazzo di console giochi da farmi regalare perché ho praticamente tutto anche il pc l'ho appena potenziato mi manca la scheda video ma la scheda video costa 500 euro la scheda video è 180 quindi boh niente il mouse è questo e la madoc che figo complimenti bravissimi con il casco di mastership praticamente vabbè le caratteristiche in realtà non sono anche da leggere ragazzi queste cose cinesi sono finte le caratteristiche anche se sono effettivamente quelle sono finte in generale sono finte comunque il mouse l'ho pagato 18 euro e c'è ancora su ebay non vi metto il link in descrizione perché si sono ancora abbastanza incazzato per il fatto che anche se non c'è tra niente ebay il corriere l'abbia sbattuto e per poco ragazzi non gli ho detto mille parole brutte vabbè il microfono usb che in teoria non ha bisogno di driver quindi boh si connette e boh attenzione perché qua è placato in oro non ci credo mai nella vita però il colore è quello quindi boh speriamo cavo questa cosa qui l'ho prezzata è appunto come le mie cuffie da gaming rosso e nero vabbè ma quello è una coincidenza di nylon però il mio è anche poi plastificato il mio c'è tipo neanche se col macete che tagli il mio cavo delle cuffie le gamme un giuro magari ve le faccio vedere porta usb non è anche troppo grossa meno male cosa succede alla luce dell'universo ok google accendere il lampadario non so perché si era scurito tutto comunque questo è il ragazzi non so perché dico mouse questo è il microfono oh si lo speravo tantissimo tutto questo è un tasto ragazzi ok ovviamente si preme meglio in centro perché il tasto è solo in centro però questo è tutto un tasto sotto è antiscivolo quindi buono qua è metallizzato questi saranno buoni 20-25 cm il cavo non è così lungo però non deve essere lungo questa è la capsula sonora cioè la griglia della capsula sonora che è all'interno il braccio non voglio muoverlo troppo perché poi si rovina però è comunque molto ovviamente mobile essendo comunque direzionabile ovunque e niente il mouse io no ragazzi non so perché dico mouse non l'ho capito il microfono vediamo se funziona scusatemi per il pc che fa casino si chiama G55 c'hai i led rossi quando è spento si spengono quando è acceso si accendono qua avrò la scritta andovl che mi fa molto ridere stavo per darvi un colpo fortissimo e niente il mouse ragazzi io vi giuro non so perché sto continuando a dire mouse il microfono si è già configurato è bello e si è mai fatto molto molto bene sinceramente ha superato le mie aspettative quindi proseguirei alla prova che spero di riuscire a includere in questo video se no lo vedrete comunque nei prossimi video so che facendo video lunghi e magari commentando per tre minuti un video di sei ore è difficile che voi troviate quei tre minuti però nel senso prima o poi lo sentirete io stavo guardando tutto in generale come è fatto qua anche un jack per le cuffie scusatemi stavo incontrando stortissimo qua anche un jack per le cuffie quindi posso effettivamente collegarci anche le cuffie per sentire quello che sto dicendo quindi volendolo puoi anche registrare per cantare usare per registrare il canto non lo farò ovviamente però c'è la capsula sonora me l'aspettavo più piccola il mouse è stabile il tasto è fighissimo il cavo sembra fatto da dio tutto quanto il mouse il mouse ragazzi non so neanche qui a ripetervelo però boh non lo so il microfono mi ha stupito sembra fatto veramente bene e spero che la qualità sonora sia almeno la metà della qualità estetica e produttiva quindi niente io finisco qua l'unboxing con questo microfono che vi guarda e andrei a provarlo per vedere come effettivamente suona ok prova 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 ho scoperto perché non stava registrando anche se voi non sapete che prima non stava registrando in questo momento voi state guardando il mio simbolo la mia propic come volete chiamarlo e sto parlando a una decina di centimetri al microfono se mi è lontano a una quarantina di centimetri al microfono questo è quello che si sente se mi avvicino al microfono sono tipo a due centimetri nel microfono e dico le parole con la P tipo non posso dire nessuna parola con la P però intanto ho detto tante parole con la P e niente questa è la prova del microfono facciamo la prova del tasto perché questo microfono ovviamente al tasto io lo terrò sempre collegato sempre attivo ma muterò il microfono c'è un tasto come vi ho detto prima built in quindi proviamo a mutare scusatemi per il casino anzi vediamo se si sente il casino perché c'è un casino fuori dalla finestra adesso io muto sentiamo se si sente un click forte ok infatti non mi stavate sentendo adesso invece mi sentite voglio sapere appunto come voglio vedere come è stato il click 1 2 3 prova di solito io parlerò a questa distanza se invece lo tengo così questa sarebbe la distanza a cui lo tengo senza doverlo spostare mentre sto giocando magari sto giocando in questa posizione 1 2 3 prova 1 2 3 prova ragazzi io ho fatto varie prove prima adesso il microfono è impostato nel migliore dei modi anche se comunque non ci sono tante impostazioni essendo usb non passa per alcuna scheda video c'è scheda audio scusatemi e il microfono come vi ho detto prima mi ha colpito parecchio per la sua costruzione a parte vabbè la base che è plasticosa ma la te è plastica abbastanza seria non tanto però per 18 euro tutto il resto è fatto veramente bene e anche l'audio mi pare veramente particolare non ho sentito chissà non uso chissà quale programma delle distrazioni adesso uso bandicam userò bandicam o del gato però non ho sentito tanto rumore non ho sentito distorsioni il suono lo prende anche abbastanza bene le p vengono abbastanza cioè un minimo come si dice censurati tra virgolette nel senso viene tolta il fruscio tutta la potenza che si distrugge quando dici queste parole con la P tipo potenza e niente quindi sono abbastanza soddisfatto anche del lato tecnico del microfono e niente lo useremo per fare questi mini commentary quando ce ne bisogno ho trovato anche una postazione una modalità di uso comodissima quindi appunto in questi momenti posso prendere schiacciare il tasto di registrazione tra virgolette il tasto di unmute e iniziare a registrare la mia voce poi ripremerlo e continuare a giocare senza dover per forza registrare quello che succede nella mia stanza potendo parlare con altre persone ascoltando musica video e quello che voglio mi per la mia stanza per la mia stanza per la mia stanza